Un confronto privato tra amministrazione comunale e alcuni cittadini si è trasformato in un vero e proprio dibattito pubblico e a tratti anche politico. Così quella che doveva essere una discussione sulle antenne nella zona mare di Pesaro si è trasformata in protesta, salvo poi la quiete, con alcune mamme che hanno accettato l'invito dell'assessora Conti nel rimandare la questione per parlarne in maniera più chiara e serena. Tuttavia le domande rimangono. Per quanto mi riguarda come mamma di un bambino che frequenta la nuova scuola di Pesaro, quindi in vicinanza delle antenne, qui poi ci sono in rappresentanza le mamme anche dell'altra scuola, Mascaruzzi, i residenti e i commercianti. Non siamo qui per fare una lotta politica, non siamo qui per fare discussioni senza senso, ma siamo qui solo perché estremamente preoccupati per la salute dei nostri figli, i residenti per la salute dei loro stessi, i commercianti idem. Il motivo è di avere chiarimenti e delucidazioni su quelle che sono le procedure con cui queste antenne sono state messe e soprattutto come entreranno in funzione e quali sono i voltmetro che poi andranno a portare ad avere come emissione. È anche una problematica che si ha nell'immediato futuro di un aumento di questo voltmetro. Vorremmo insomma che il comune prendesse una posizione per quanto è possibile anche per quelle che sono le leggi attuali e si impegnasse a tutelare noi cittadini. Risposte che dunque vengono rimandate ad ottobre dall'assessora che si dice dispiaciuta nella non averle potute fornire oggi a causa della clima che si era creato in Sala Rossa. Sono dispiaciuta perché come di consueto abbiamo subito risposto ai cittadini come poi l'impronta anche da inizio legislatura di questa amministrazione, ma come tutti sanno come diciamo assessorato all'ambiente soprattutto per il percorso che riguarda le antenne l'abbiamo fatto dall'anno scorso. Abbiamo avuto tantissimi incontri pubblici dove spiegare le varie situazioni. Si trattava questo di un incontro specifico richiesto da in realtà un cittadino in particolare che l'aveva chiesto al sindaco e che poi ha chiesto ovviamente di seguire la situazione che sto seguendo ormai da oltre un anno e mezzo. E poi si sono invece presentati anche consiglieri dell'opposizione e la ritengo diciamo una scorrettezza perché se l'incontro doveva essere pubblico con tutte le istituzioni presenti doveva essere allargato a tutto il Consiglio Comunale e anche eventualmente coinvolgere i commissari della Commissione Ambiente nella quale poi parleremo di tutto l'iter che riguarda appunto il nuovo regolamento delle antenne e la nuova mappatura che andremo a rivedere per il 2024. Ciò nonostante con un gruppo di mamme che era poi quello che voleva avere delle informazioni ed è stato quello maggiormente penalizzato perché non ha potuto avere le informazioni e le delucidazioni che chiedevano che erano specifiche a queste due antenne posizionate al porto che ricordo una c'è dal 2002 l'altra deve ancora entrare in funzione e non rientra nel piano delle antenne che abbiamo che hanno votato in Consiglio Comunale tutto il Consiglio Comunale il 19 dicembre del 2023 abbiamo concordato di rifare questo incontro nei termini che erano quelli iniziali come avevo anche già detto pubblicamente e ciò non è stato quello che avevo anche detto pubblicamente